Grazie a Facile Ristrutturare oggi possiamo vivere finalmente a pieno la nostra casa con tutti i nostri ragazzi. Con la realizzazione del secondo piano abbiamo sistemato due camere da letto con il bagno e quindi adesso finalmente viviamo a pieno la nostra casa anche nei weekend. Quindi ancora grazie è facile ristrutturare. Ci troviamo qui all'Associazione Italiana Persone Down, la nostra ristrutturazione è risultata utile per la nuova distribuzione dei spazi interni, camere e bagno. Abbiamo rifatto gli impianti e ci siamo occupati dei rivestimenti nuovi e delle finiture. Ora auguro l'Associazione di poter godere appieno dello sviluppo di queste attività ludico-recreative e didattiche per i bambini e consentire a loro di pernottare al meglio tutti insieme in questo spazio. Grazie a Facile finalmente posso giocare con tutti i miei amici una camorezza tutta nuova.